Avevano affittato diversi appartamenti nei quali numerose prostitute incontravano i clienti offrendo prestazioni sessuali a pagamento. Un agente della polizia di Stato ed una donna sudamericana sono stati arrestati dalla squadra mobile di Treviso nell'ambito di un'indagine sul favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il poliziotto, in servizio in un'altra provincia e già sospeso da tempo, aveva creato assieme alla donna un articolato sistema di gestione e sfruttamento delle ragazze. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema illegale andava avanti da alcuni mesi e prevedeva il reclutamento, la gestione e lo sfruttamento di prostitute prevalentemente stranieri con un ricavo di significative somme di denaro. L'uomo è stato arrestato dai colleghi in flagranza di reato mentre la sudamericana è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria mentre si stava allontanando dall'Italia. Entrambi i provvedimenti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria.